L'associazione Babarum ritorna, giovedì 27 aprile, alle ore 20 e 30, Teatro Gesualdo di Avellino, grande spettacolo musicale, il gran galà della solidarietà, raccolta fondi per i neoplassi cirpini, a correte copiosica. Ma chi ci sarà? Il giardino dei semplici, Antonio Norato, Letizia Gambi, Elisabetta Serio e Giovanna Fabulari, Peppo O, Lello Capano, Michele Roscica, l'uomo archesto partenopeo, Angelo Picone, detto capitano. Ma chi presenta? Enzo Costanza, venite copiosi!